Dopo qualche giorno passato a cazzeggiare di qua, di là, di su, di giù, di destra e di sinistra E eccoci tornati con Dark Messia nel punto esatto dove c'eravano lasciati, cioè inseguiti da questo goblin Che uccideremo in questo momento Oh questa qua mi cura? Che figo! What's that? Allora, la situazione sta andando a peggio di quello che cre... Ah no è morto Aia Scudo, dove sei? What a... Yatoa! Allora, dov'è il mio nemico con... che finirò col mio supercolpo? Eccolo qua Allora Time out Time out riposo E recupero di tutto Allora, questo qua l'ho ucciso Aspettandogli il cranio delle spine Caputana Forse è stato un po' troppo violento Qua abbiamo dei nuovi scudi Che... passi dai Utilizzo questo nuovo scudo qui Questo qua non mi piace E' anche rotto Oh, ho due veste dell'assassino Non me ne ho neanche accorto Vabbè Comunque Affinità magica di tomana viene elevato a 40 Vabbè Allora c'è un nemico là Uccidiamolo Appunto Uccidiamolo C'è qualcun altro? Sì C'è qualcun altro Allora Un cadavere Va bene Ma in questa parte non è che ci faremo tanto Farremo fuori tanti orchi Orchetti Orchini Orca Puttana Freccia di fuoco What the fuck Oh cazzo Ha inventato un negro Niente contro i negri Allora andiamo qua che Posso frecciare il tipo E la tipa mi cura anche Tizia Curami Curami Brava Curami Madonna Quanti goblin Uh L'ho headshotato Però non è morto Eh ma Non muoiono Qui gli headshot Niente Non muoiono Sì gli headshot Curami troia Eh sì va Ok Ce l'abbiamo fatta Sì ce l'abbiamo fatta Curami troia Mi curi Mi curi Non vuole curarmi Fan culo Mi curto solo Allora 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 Colpo critico Uno Costo 6 punti Abilità Hypnosi Boh Non mi interessano Allora 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 C'è qualcosa qui No C'è qualcosa Qua sopra No C'è qualcosa Qua sopra Oh c'ho Che mokado Oh le No Non c'è niente Vabbè Possiamo anche andare avanti Direi A sto punto Non c'è Niente Quindi Con il mio archetto In mano Archetto molto figo In mano Una botola Vabbè No Aspetta 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 Ho visto una cosa Che mi dà Da pensare Forse avete visto anche voi Che c'è una stanza segreta Il problema però È raggiungerla E non mi ricordo Come si raggiungeva O se l'ho mai raggiunta O se l'ho mai vista Allora Se andiamo qua sopra La stanza è qua sotto Ma come cazzo ci si entra? Mmm Dobbiamo scendere da questa parte C'è qualcosa qui? No Mmm Qua c'è Una bottola Proviamo a colpirla No Come cazzo si entra? Oh vi togliete del cazzo Poi Non seriamente Come cavolo si fa ad entrare? Mmm Scusate Sbieto tasto Proviamo con Telecinesi da qualche parte No 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 Uffa Come cavolo si fa ad entrare? Devo riuscire a capirlo Una questione di principio Mmm Perché guardate C'è la roba per prenderla sopra Ma poi una volta sopra Che cavolo si deve fare? Una mannaia Proviamo a tornare sopra Dai Qua c'è Qua c'è un palo Un formato E li perde tutta Quanto la parte Per capire come Cazzo si Entra là dentro Perché qua c'è Qua c'è della sabbia E fin qua ci siamo Qua c'è sta cavolo di Di cosa Che non può essere distrutta E poi non c'è altro Un po' Continuo a non capire Aie Mi sono anche fatto male Vabbè ragazzi Chi se ne frega Però peccato Mi sarebbe piaciuto Entrare là dentro A vedere che cavolo c'era Vabbè Chi se ne frega Andiamo avanti Ti va Allora Ci ho morto Per terra Una pozione di mana Una pozione di vita Un posto Misterioso Un buco Ripeto Un buco Non c'è una leva Ho già capito Si deve entrare nel buco Pum Trovo modo per aprire Cancello Che ha la leva Ok Non vedo un cazzo Fanculo Ragni Odio ragni Ma porco Ok Uno è morto Secondo Il terzo è morto Il terzo è morto Per noi Devo scendere qua sotto Intanto attiviamo Scudo e spada Ho detto scudo e spada Perché non mi ha Oh merda Che cazzo sono sti cosi? Polipi volanti Oh merda Aiuto 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 Ok due sono morti Però gli altri Ok Ok Ne è morto un altro Manca l'ultimo Che non so come cazzo Uccidere Muori Muori L'ho ucciso Che figo Sori Ce l'ho fatta Ok Niente Andiamo avanti Baffanculo Mi chiamano su skype Ok Ok qua c'è della ragnatela E qua che c'è? C'è niente? No non c'è niente Ah aspettate 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 Forse ho capito Qual è il problema Non ho preso una cosa Che doveva essere Qui No Qui doveva essere Appunto Oltre a questa porta Eccolo lì L'arco delle liane Ok Tuttiamo la catena Per aprire la porta Buon raga Io vi lascio qui E ci vediamo nella prossima parte Dove useremo anche questo nuovo arco Vi farò vedere cosa serve Alla prossima